Oggi andiamo con una top nostalgica in memoria dei bei vecchi tempi andati Benvenuti su WatchMojo Italia per una top 10 obiettivi più difficili Su quel pezzo d'antiquariato che è l'Xbox 360 Ma prima di incominciare ragazze e ragazzi mi raccomando Sbloccate anche voi il nostro nuovo obiettivo sul canale Non ho fatto incazzare WatchMojo Che si sblocca iscrivendosi e attivando la campanellina degli avvisi Comunque vecchi tempi Una decina di anni fa ma neanche Ma visto che oggi tre anni sono già un'era geologica E visto che mi sento vecchio Ho pensato facciamoci sentire anche gli altri Ala numero 10 Il monumento ai nostri peccati in Halo Reach E iniziamo con il signore di tutti i giochi del 2000 Halo in particolare con Reach Anche conosciuto come l'Alo Quello Senza Master Chief Che per questo motivo risulta ancora più difficile a difficoltà leggendaria Che è come lo dovevamo comprare Per avere l'obiettivo Sì siamo comunque delle fottutissime macchine da guerra Ma un pochino meno fottutissime del solito Chief Si va avanti coi denti Mi sa che si è fatto avanti Però che dire quando dopo esserci riusciti Ti arrivava lo stemmino col teschio umano Ti sentivi un cazzo di Spartan Ala numero 9 Folle in Mass Effect 3 Io personalmente gioco a Mass Effect E giochi simili per la storia più che altro Ma ci stanno anche i pazzi che lo giocano Alle difficoltà estreme In questo caso il combattimento folle Sì Farà crepare Garrus ancora più di quanto non muoia normalmente Perciò sì Ci sarà da incazzarsi e non poco La missione suicida del 2 In confronto era una specie di vacanza di piaceri Sono il comandante Shepard E questo è il mio obiettivo preferito della cittadella Alla numero 8 Il guerriero definitivo In Star Ocean della Stop E andiamo con uno degli obiettivi per malati Di completamenti Completi Per guerriero definitivo Bisognava essere dei pazzi scatenati definitivi Perché l'obiettivo era ottenere tutti i trofei battaglia Che sono esattamente nove Cento E insomma Sono un centinaio di trofei a personaggio giocabile E un qualche migliaio di ore di vita Che vi scorrerà davanti agli occhi Ma a quel punto Saremo dei guerrieri definitivi Soddisfatti? No Ma va bene lo stesso Alla numero 7 Campione del mondo In Tom Clancy's Ghost Recon Advance Warfighter Un obiettivo che Se a sto giro qualcuno nei commenti Mi viene a dire che Lui l'ha conseguito O sa di un suo lontano cugino di quinto grado Che ce l'ha fatta Non ci credo E lo denuncio Perché per avere campione del mondo In Ghost Recon Bisognava essere Il Campione del mondo Nel senso Primo Primo sullo scoreboard mondiale E ora A meno che Sinceramente tra voi Non ci sia un ex vecchio Super pro cazzutissimo Di Ghost Recon Questo obiettivo Rimane nelle nostre fantasie Temo Alla numero 6 La vescica d'acciaio In Rock Band 2 Oh questo fa incazzare Non poco Provato Mai riuscito Spaccato la chitarra Come un vero carcobain In salotto Un bel momento Sì perché per vescica d'acciaio Bisogna completare tutte 84 le canzoni Senza fallirne una ovviamente E senza interrompere il gioco Che significa una cosa molto carina Che se per sbaglio Dato che è una cosa lunga Vi si scaricano le batterie Fallite Se mentre state facendo i fichi Con l'overdrive Premete per sbaglio start Fallite Se dovete andare al bagno Fallite Se lanciate la chitarra Sull'Xbox E poi lanciate l'Xbox Dalla finestra invece Vincete Alla numero 5 Il My Light Club In Call of Duty 4 Modern Warfare Ricordate la missione post titoli di coda Di Modern Warfare Quella in cui tocca salvare l'ostaggio E che non ha nulla a che fare con la campagna Sono sempre chiesto il perché Sinceramente Ma salta fuori Che era per un obiettivo Non lo sapevo E ci arrivo in ritardo Di più o meno dieci anni Ma va bene lo stesso C'è da dire che È anche difficile Pensare che una persona normale Possa arrivare a capire Che per ottenerlo Bisogna completare la missione a veterano In meno di un minuto E uccidendo il boss Con un headshot Ma nel 2007 No secondo voi Uno come c***o Ci arrivava Alla numero 4 Seriamente 3.0 In Gears of War 3 Via Chi è riuscito a completarlo Si faccia avanti Dai dai Non vi crederemo Ma almeno potete provare a convincerci Allora Per seriamente 3.0 Bisogna 1 Avere tanto tempo 2 Essere seriamente compromessi mentalmente Perché si ottiene solo raggiungendo Il livello 100 Con tutte e 65 Le medaglie Onix Che uno arriva di solito al 50 Senza neanche averne ottenuta una Normalmente E le medaglie Onix Non so se ricordate Sono obiettivi che vanno sulle decine Di migliaia di ripetizioni Di una singola azione Tanto per farvi capire Alla numero 3 Duro a morire In Dead Space 2 Questo sinceramente È invece uno dei più divertenti A memoria personale Perché è strategicamente validissimo E impiega anche una profonda Conoscenza del gioco Non è solo il classico Ammazza tutti e i 200 nemici In mezzo minuto E se ti toccano Esplode la play No no Te la dà una possibilità Che è la cosa che dovrebbero fare tutti Questi obiettivi Allora Completare Dead all'inizio A normale Poi a Zelota Poi a Hardcore Ma con la possibilità Di salvare tre volte E quindi la scelta si fa dura Dove Come Quando È questo il bello E lo è anche il gioco Che rimane un capolavoro Ancora oggi Sinceramente Alla numero due Sette giorni di sangue In Dead Rising Oh si partiva col facile Completata la storia del gioco Si sbloccava la Infinity Mod La quale era Era troppo Irrealistica Perfino per un gioco Con una cazzo di apocalisse zombie Questo perché La nostra salute Diminuiva nel tempo A una velocità Allucinante E toccava mangiare Ogni mezzo secondo Per rimanere vivi I Coco Pops Tra l'altro Nutrienti Una partita di metabolismi Accelerati In cui tutti quanti Hanno fame Ma noi per qualche motivo Ne abbiamo più degli zombie E si doveva sopravvivere Per 14 ore Della vita reale Senza pause Senza salvataggi E senza checkpoint Ma anche Alla numero uno Mr. Perfect In Mega Man 10 Mega Man ha avuto I suoi alti e bassi Come saga Per quanto riguarda La difficoltà Alcuni capitoli Sono dagli 0 ai 2 mesi Altri semplicemente Ti mandano direttamente Il ricovero psichiatrico Come il 2 O come anche il 10 In cui se si voleva andare Anche a livello superiore Di malattia Si poteva decidere Di puntare al Mr. Perfect Ossia finire il gioco Senza essere sfiorati Neanche una volta Ho sempre pensato Che potrebbe essere divertente Provarlo su cabinato In sala giochi Per vedere quanti milioni di euro Si sputtanano E quanto velocemente Soprattutto Allora Piaciuta la lista? Mi raccomando Guardate queste altre top 10 Obiettivamente Obiettivose Iscrivetevi A WatchMoji Italia Grazie a tutti Grazie a tutti